Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Skywars Siamo sulle iPixel perché le iPixel mi piacciono un po' di più E perché in realtà Evermine non ha i Lucky Skyblock attivi Quindi, brutta roba Però tranquilli, tanto vivina ci stiamo E giocheremo qui su iPixel Sui Skywars che sono sempre tanto carini e tanto belle Avete visto già l'episodio con Xander qualche giorno fa Quindi tranquilli che iPixel è sempre figo, tanto bello Non andremo a giocare le stream perché è un po' complicato Ma andremo a giocare quello extended, quello più grande Dove troveremo un po' più roba Speriamo di vincere qualcuno Speriamo di giocare a massimo due perché quelli durano un po' di più rispetto ai normali Skywars E iniziamo subito Ovviamente vi invito a lasciare un bel like Trovate qui sotto l'IP per il server E iniziamo Ok ragazzi, eccoci qua Siamo nella Mega Mod E questa è bella complicata, bella lunga Ma soprattutto tanto piena di uccisioni Ok E abbiamo un team da 5 Va bene, oddio, è abbastanza complicato da guardare il team da 5 Però ci sta E dobbiamo uccidere tanta gente Questa non ho mai giocato a queste mappe E nemmeno in realtà ha questa modalità Mega L'ho solo vista perché sembrava tanto figa Quindi l'ho preso e ho fatto Ah ok, figa, teniamocela Ok Ah, qui non posso prendere nulla Qui c'è roba Mi serve giustamente di recuperare un po' di ferro Ovviamente devo mettere a cuocere tutto Quindi ci vorrà un po' E qui c'è anche tanta roba Uno, due, tre pezzi di ferro Perfetto Recupero anche un po' di... Ah, c'è già la fornace Perfetto, niente Recupero anche questa roba Quindi posso prendere le diamante di sopra E... Credo la gente abbia già preso tutto Stanno anche uccidendo qualcuno sopra Ma... A noi davvero fotte segaltamente Ho un altro diamante ragazzi Mi servirà quella roba? Ok, cerchiamo di farloare questa roba Aspettate Oh, c'è un piccolo in diamanti C'è il tizio che fanno in piccolo in diamanti Vabbè, gg Uno, due, tre E quattro I blaze Spiegatemi perché ci sono dei blaze E io non ne ho idea Davvero Però qualcuno sta già morendo Il mio team è ancora a cinque Quindi va bene Si sta staccavando molto bene E percato le armature saranno difficili da recuperare Però chi se ne fotta ragazzi A noi interessa farci il piccolo in diamante E farci la spada in diamante E tutto il resto è tipo più o meno poco interessante Oddio Ok, ehi Stick Ok Piccone in ferro Scusatemi, non in diamante Bam E diamanti, diamanti, diamanti Oddio Quello di diamante di sopra lo devo prendere Scusate, uno E Uno, due E tre E lo prendiamo anche quello Bam Caduto È caduto a qualche parte Non so dove sia andato ragazzi Ok, eccolo qua Bam Allora, spada in diamante Già così va più che bene Ok Si va a dare la gente ragazzi Molto Misteriosamente Magicamente Ok Let's go Ok Oh Cristo Ok L'ho ucciso ragazzi C'era un blaze Questa è un team con noi In team Posso inciantare la spada Se avessi un livello C'è un livello Bam Smite uno Tra tante roba Proprio smite uno Ehi 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 Vai via Vai via Tizio di merda Non so quanto ci convenga Fare sta roba Dove è sincero Oddio Aia Mi ha colpito Da quel lato Non dovrebbe colpirmi Ok Ne ho ucciso ragazzi Oddio Eccolo qua L'ho beccato Però Ok Tre colpi Tre danni li ho fatto Ovviamente c'ha sette Quindi Ti cavolo Ehi Ehi Ucciso Ucciso Ok Roba Roba recuperata ragazzi Team nostro ci sta Siamo in tre solamente Non è che abbiamo chissà che cosa Però Ehi Figo Ok Ehm Ba Blast protection Già andrebbe meglio Volevo recuperare un po' di cibo Se è possibile Non ci sta Vediamo un po' che sta qui dentro Incianta Incianta manetta Posso andare inciantare Posso inciantare un'altra spada Sì c'è un'altra spada di diamante Perfetto Ci andiamo Ok Aspettate che torno a casa E' a casa Slash posto dove son venuto Ok Non c'è nessuno di qua Dobbiamo Obbligarci ad andare velocemente Ok Inciant Veloce Non c'è nessuno Bene Inciantiamo 8 livelli Sharpness 1 Ok Ok Già è meglio questa E questa che c'ha Efficienza 3 Dettagli Ok Niente di troppo interessante Abbiamo un arco con power Ehm Adorito ragazzi Power 3 nell'arco Ok Ho del cibo Ah sono rifilate le ceste Sono rifilate ragazzi Perfetto Cibo a manetta E si va ad arare la gente Oddio Sono da solo Sono morti tutti Va bene Ok Tranquillo Ulisse Ce la puoi fare Devi solo giocartela molto bene Fai attenzione La gente è un po' pezzente E stronza Ma il resto ci sta Facciamo questa roba qui dentro Tanto non ci interessa Perfetto Ok Ho la pozione di fire resistance Nulla di troppo Figo Sinceramente Però Ok Ok se riesco a colpirlo E ucciderlo Potrei far qualcosa Lì c'è Un ponticciolo Ok Vediamo un po' Queste ceste sono state prese Sì però Non c'è nulla di interesse Oddio Quel tizio è un pezzo di merda Ah C'è un po' pezzo di merda Non ho Non ho Che sia quella armatura Quindi ok Il danno potrei farglielo Ma Non sarebbe Figo Ok L'ho beccato Aspettate che lo becchiamo ancora Dai esci esci bello Ok Ok Potrei colpirlo tranquillamente Un shottarlo Eh Un shottarlo difficile Però un po' di danno Lo potrei fare tranquillamente a lui Ok Sta prendendo un po' di danno Ok Ancora un po' Me la duro sicuramente Ok i dettagli Ok i dettagli I dettagli Posso ucciderlo Posso ucciderlo Posso ucciderlo Posso ucciderlo Oh Oh Grazie ragazzi Grande Perfetto Pozione di generazione Ok Cibo buttiamolo via Non ci serve Dai dammi qualcosa di bello Dammi tipo le scarpette Stanno qua Stanno qua le scarpette Poi ci sta anche il cappello ragazzi Ok Butta Butta tutto Butta tutto Ok Questo qua è Blast protection Quindi me lo terrei Sembra essere molto più figo Rispetto all'altro E c'è un'altra pozione di Regenerazione Due Ok Allora Me la sto giocando Molto scialla Ma sto vincendo Devo dire che Non mi aspettavo di vincere Non mi aspettavo nemmeno di vincere Quel combattimento contro quel tizio Quello tizio era molto più figo di me Molto più forte Aspetta che facciamo Aspetta che facciamo L'armatura in diamante La terrei Sembra essere molto più forte Rispetto al normale Che sta Dammi l'armatura in diamante Me la dai Me la dai L'armatura in diamante Ok E devo andare a incantare Devo andare a incantare Vediamo un po' Vediamo un po' Ok molto meglio questo Dove essere sincero A posto E credo ci fosse anche un corpetto Da qualche parte Vieni Buttata roba Ok tizio lì Sti cavoli Dai c'era un corpetto in diamante Credo No non credo Ok buttiamo Vediamo un po' Refill chest Spada sharpness one Nulla di troppo interessante Qua niente ancora E lì c'è una chest Ma ho paura di prenderla Quindi sti cavoli L'arco dov'è Oddio l'arco L'ho buttato un arco ragazzi Ho buttato un arco Sbagliato Ok eccolo qua Bam Ok Arco mi serve Frecce 24 Bene Ok lì ci sono due tizi ragazzi L'avete visti Se L'ho visti anch'io L'ho visti in realtà Ok Oh altre frecce Power 1 Dettagli Non ci serve quella roba Ci serve qualcosa di più figo Oh altre cose Pozione di speed Pozione di speed Non ci serve molto eh Oddio C'è qualcuno che ci spara già eh Ok Regeneration Ancora Dove diamine sta la gente Perché la gente Non si muove A venire da me E farmi Tipo uccidermi In realtà Vole uccidere io loro Però Sarebbe anche figo Il contrario Cioè non troppo figo Ok lì ce n'è qualcuno Vedete lì Ce n'è uno lì Che sta messo malissimo E sta pillando un sacco di danza Solo che non so come ci arrivo Là eh Sapete Ho un paio di blocchi E vabbè Ci arrivi Però Il problema è che loro C'hanno le frecce Quindi Ehi ci muori Posso Posso utilizzare qualche Cosa qua Vediamo un po' Ci sono state di nuovo Refillate Quindi altra roba interessante Dentro Tipo Shepness one Shepness one Un ender pearl Va bene Questa mi serve Già va bene E vediamo un attimo Qualche altra chest Altra ender pearl Altre frecce E Niente di interessante Ok ce n'era un'altra ancora Quindi prendiamo giusto L'ultima chest Ender pearl Ancora E scarpini Ragazzi Più Enchanting Quindi va bene Buttiamo l'enchante qua Scarpini L'enchantiamo Diamo un po' Ok Va bene E bam Ok Si va a uccidere gente a caso Molto Eh si Quello di due sono in team Che palla La gente in team Però Un po' pezzo di merda Eh però Cioè Che cavolo Non è team questo Cioè Si ok È team Va bene Ah è vero Perché loro sono in team In due Siamo quattro player Due sono in team E vabbè Ci sta Ok Posso ucciderli a freccettate Ok Posso ucciderli io magicamente Vediamo un po' Ce la facciamo Ok Un tizio sta salendo da sopra E sono tutti vicino a Cioè tutti di fronte a me Oddio Sono i quattro Scusami Ah giusto Ci sono quattro E poi ci sono io Ovviamente Cioè Ah lui ci sono quattro team Sono Quindi ok Non è proprio così Come dicevo io Ok Li sto beccando Io ho power 3 Quindi sticcavo lì Guardate quello non mi becca mai Non mi becca È proprio ritardato Oddio Oddio Mori 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 Ok Possiamo un'igenerazione qui Ok Ragazzi L'ho massacrato quel tizio Oh merda Come si sale Da qua Da qua Ok saliamo veloce Sala veloce Sala veloce Ok Aspettate che devo uccidere Dove diseggere sta cosa Veloce veloce Ok Quel tizio è andato a finire Ragazzi non so dove è andato quel tizio Ok Questa cosa è preoccupante Cosa aveva? Aveva Oh Cristo Oh merda Ragazzi Qua iniziano ad arrivare i dragoni A caso Ok È mosso un cavoli Amari Ma amari Come se non ci fosse un domani Oh l'ho beccato Aia Pezzo di stronzo No merda 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 Drago No Merda Ragazzi quel drago di merda Mi ha fatto cadere Porca vacca Però Ce l'ho quasi fatta E vabbè Ok me la son cavata Qua arrivano draghi a caso Dopo i 5 minuti E Chi è rimasto? Sono rimasti due tizi 5 player mi sono rimasti Quindi ok Me la son un po' cavata È stata abbastanza carina come cosa Io direi che Va bene così Sto tanto con questa parte Ditemi nei commenti Se voleste vedere Altre partite del genere Magari con Xander Perché Siamo in due Magari ce la giochiamo molto meglio Rispetto a uno Però Devo dire che Ho fatto due Due scontri Che sono durati Relativamente poco Però Me la son cavata Molto bene Anche con un equipaggiamento Abbastanza merdoso Quindi GG Ulysse Ragazzi ci vediamo nel prossimo video Da Ulysse è tutto Ciao ciao E al prossimo video